Bella a tutti i folli e bentornati su DarkFlyChannel con un nuovo video sul canale. Oggi, come avrete capito dal titolo, sono qui a portarvi un'analisi di gioco dedicata a un nuovo videogames, ovvero Tom Clancy's The Division. Prima però di iniziare il video vero e proprio, voglio andare a ringraziare i ragazzi di Tom's Hardware e della Ubisoft, perché mi hanno fornito una chiave per partecipare alla beta e ovviamente senza loro aiuto non sarei mai riuscito a portarvi questo genere di video. In secondo luogo voglio invitarvi a lasciare un pollice in su e un commentozzo, perché dato che è la prima volta che porto questo genere di video, voglio sapere se è uscito un video decente, se siete riusciti a capire ciò che sto dicendo e soprattutto sarete qualsiasi consiglio a darmi per le prossime analisi, iscrivanole qui sotto nei commenti. E soprattutto voglio andare a precisare del perché vi sto portando un'analisi e non un gameplay. Perché dato che su YouTube Italia ci saranno tonnellate e tonnellate di gameplay dedicata a questo gioco, magari non ci sono recensioni oppure analisi decenti dedicate a questo gioco e quindi ho optato per portarvi appunto un'analisi, magari per far conoscere questo gioco a coloro che non lo conoscono, oppure a convincere sempre di più che questo è un gioco che vale a coloro che sono indecisi se comprarlo oppure no. Quindi adesso banda le ciance e iniziamo subito l'analisi di questo gioco. Innanzitutto Tom Clancy's The Division, che genere di gioco è? E uno sparatutto in terza persona, open world. Sparatutto in terza persona, penso che chiunque di voi sappia cosa sia, praticamente è un gioco dove c'è soltanto la terza persona e non esiste la prima, invece open world significa che, mentre giochiamo abbiamo un mondo abbastanza ampio da esplorare come su Fallout o come su Skyrim, e per giocare non dobbiamo per forza seguire la trama del gioco, quindi non dobbiamo per forza fare le missioni primarie o secondarie, avvenzi possiamo andare a esplorare la mappa, possiamo andare a ammazzare gente a caso e così via. Adesso mi vorrei andare a soffermare sulla trama di questo gioco, che è abbastanza carina e potrebbe essere anche attuale. Praticamente Tom Clancy's The Division è ambientata a New York, in una New York sprofondata nel caos durante Black Friday. Per chi non sapesse cosa sia Black Friday, è praticamente un giorno venerdì nero, dove sia in America, sia da qualche anno in Europa, ci sono salti dell'80% anche il 90% nei negozi. Quindi questo gioco parla di una malattia che si diffonde attraverso il denaro, in particolar modo a New York. Ovviamente come molti di voi potranno pensare questa malattia non si è generata così a caso, non è una malattia naturale, ma bensì è generata a qualche pazzo in laboratorio. Ovviamente ancora la trama non la so, quindi non si sa chi è il vero nemico in questo gioco, potrebbe essere chiunque. Infatti il nostro compito, noi non siamo civili normali, ma bensì siamo un agente speciale che viene messo nella città per ristabilire l'ordine. Infatti New York viene messo in quarantena, in città non ci sono più poliziotti, ma bensì ci sono semplicemente civili e numerose bande, che ormai hanno preso il controllo della città, uccidono civili a caso, impongono le loro regole, fanno saccheggi e così via. Quindi il nostro compito è quello di aiutare i civili, cercare di liberarli da queste gang che praticamente catturano chiunque, perché penso che questa malattia ormai ha lanciato tutta la città, e è molto importante in questo gioco anche il fattore co-op e multigiocatore. Infatti nella beta che ho potuto provare in tre giorni, perché praticamente l'ho scaricata il 29 che è iniziata per il PC ed è finita praticamente il giorno 31, ho potuto notare come il fattore co-op sia un fattore fondamentale. Infatti l'aspetto single period in questo gioco è quasi inesistente. Infatti non voglio spoilerare tantissime cose, però quando noi iniziamo a giocare praticamente abbiamo una sorta di co-op, una sorta di base, dove per il momento è praticamente vuota, poi andando a fare le varie missioni secondarie possiamo assumere personale, per esempio possiamo andare a assumere che ne sono medici, guardie per la base, gente che ci aiuta e tant'altro. Quindi questo è l'unico fattore single player del gioco. Poi praticamente per le varie missioni primarie e così via, inizia il fattore co-op che si può paragonare a quello di Destiny, un gioco per PS4, non so per chi lo conoscesse, ma è abbastanza famoso. Infatti ragazzi, durante le missioni, sia principali, secondarie, e anche semplicemente nell'esplorazione della mappa, chiunque si può aggiungere al nostro gruppo per aiutarci a fare queste missioni, quindi possiamo invitare anche i nostri amici, possiamo fare la trama, cioè possiamo fare la storia del gioco in due giocatori, in tre, in quattro. E il fattore importante è anche che le persone che si aggiungono al nostro party non possono semplicemente aiutarci, ma possono mettersi anche dalla parte dei nemici e quindi possono bloccarci, perché ovviamente un conto è giocare contro the bot, quindi contro persone generate dal computer e dal PlayStation. Un altro conto è invece trovarci come nemici vere e proprie persone, reali che ci fanno il culo la maggior parte delle volte, perché in questo gioco possiamo trovare anche una sorta di sistema di livelli, più ci siano i fai, più prendi esperienza e più avrai la possibilità di acquistare armi più forti, vestiti e tant'altro, di questo ne andremo a parlare in secondo luogo. Ovviamente ragazzi, questa mappa, ovvero quella di New York, non l'ho potuta esplorare completamente, perché nella beta era bloccata, ovvero avevamo soltanto la parte dove c'era il nostro covo e poi la parte centrale della mappa, che viene chiamata Dark Zone. La Dark Zone è un punto abbastanza pericoloso dove andare, perché praticamente possiamo essere uccisi dalle persone reali, diciamo così, e possiamo perdere oggetti e tant'altro. Ancora non ho capito benissimo come funziona questo fatto, magari vi andrò a portare un gameplay secondario dove sarò nella Dark Zone e vi farò capire un pochino le cose come funzionano. Comunque, parlato del fattore co-occu, parlato del fattore multigiocatore, come ho già detto, possiamo andare a parlare anche della personalizzazione del nostro personaggio, delle armi, dei vestiti e di tant'altro. Ovviamente ragazzi, quando si inizia il gioco, possiamo andare a costumizzare il nostro personaggio mettendo capelli, possiamo fare la faccia come vogliamo e così via. Ovviamente nella beta questo fattore era bloccato della costumizzazione del personaggio, perché magari forse ancora non era pronto o hanno bisogno di sistemare qualcosa. La cosa invece che mi ha davvero sorpreso, a differenza, non lo so, di giochi che sono usciti da poco, come per esempio Star Wars, che ha una costumizzazione delle armi abbastanza bloccata, invece su Tom Clancy's The Division abbiamo la possibilità di costumizzare le armi come vogliamo, possiamo mettere mirini, accessori, che ovviamente tutte queste cose vengono droppate, o ammazzando gli NPC, ovvero persone generate al computer, oppure facendo le varie missioni. O abbiamo anche la possibilità di dipingere le nostre armi con vari pattern, quindi a coloro a cui piace dipingere le armi si può fare. E inoltre abbiamo una grossissima vastità di armi, ovviamente più un'arma è forte, più il nostro personaggio deve salire di livello, quindi possiamo trovare anche questo aspetto RPG. E ovviamente come già detto in precedenza, non si possono soltanto droppare armi e costumizzare soltanto le armi, ma bensì si possono anche andare a droppare vestiti, zaini, cinture, pantaloni e così via, che ancora non ho ben capito se si possono colorare i vestiti, ma se magari ve lo sapete scrivetelo qui sotto nei commenti. Un altro aspetto di cui volevo parlare, oltre alla Dark Zone, è la Green Zone, che nella beta ancora non è stata spiegata benissimo dove si trova. La Green Zone è una sorta di social hub dove possiamo andare a incontrare altre persone oppure possiamo andare lì con i nostri amici e praticamente in questa zona possiamo trovare dei market, dei negozi dove comprare le armi e i vestiti, perché ovviamente come in tutti i giochi le armi oltre a dropparle, anche i vestiti, si possono anche andare a comprare con i vari soldi che andiamo ad accumulare facendo le varie missioni oppure andando a ammazzare le persone, perché andando a ammazzare le persone ci vanno a droppare i soldi e tant'altro. Ovviamente un aspetto che non ho ben notato, cioè non ho capito se è stato introdotto oppure verrà messo dopo la beta, è la possibilità di andare a creare una gang, un clan, chiamatelo come volete. Infatti per ora in gioco ho visto che si possono creare soltanto dei party di 4 giocatori per le missioni oppure che ne so, puoi andare in giro per la mappa non con una gang ma puoi creare anche un gruppo di 20 persone che vanno in giro per la mappa. Però magari dovrebbero andare ad aggiungere, non so se l'hanno detto in qualche posto, la possibilità di creare un covo con la propria gang, che ne so, di fare sfide tra gang per ottenere il controllo di una parte della città e così via. Anche perché un altro aspetto che non ho capito bene è quanta gente può entrare in un unico server. Perché la prima volta che mi sono collegato in gioco c'era questa specie di zona di questa specie di social hub dove c'era una quarantina, cinquantina di persone e poi andando a girare per la mappa ho visto che c'erano altrettante persone. Quindi non so quant'è il limite massimo di gente che può stare all'interno di questa mappa. Non so se ogni parte della mappa ha dei server prescelti quindi non c'è un vero e proprio server ma sono più server uniti. Se magari ve lo sapete scrivetelo qui sotto nei commenti. E niente, penso di avervi parlato di tutti gli aspetti. Ho parlato della trama, genere di gioco, la costumizzazione delle armi, le varie missioni. Non mi sono voluto soffermare molto sulle missioni perché non volevo scollerarvi nulla. Tanto se ve lo comprate potrete senza problemi scoprire le varie missioni. E soprattutto, come già detto, voglio portarvi un secondo gameplay su questo gioco sulla Dark Zone per farvi vedere come si spara e altre cose. Quindi magari se lo vorreste vedere lasciate tanti like e lasciatemi tanti commenti qua sotto. Quindi, direi che questa analisi di gioco può finire qui. Scusate se non sono stato completamente esaustivo a tutte le vostre domande ma dato che questa è stata la prima analisi che faccio su un gioco non sapevo bene che cosa dirvi di che cosa parlarvi e ovviamente non c'era bisogno che ve lo dicevo perché tanto basta andare a cercare su Google lo sapete scoprire anche voi. Questo gioco verrà rilasciato completamente l'8 marzo del 2016 quindi all'incirca tra un mese diciamo così. Ovviamente sia su Xbox One PlayStation 4 e per PC non per Mac ovviamente. Quindi, detto ciò questo video può finire qui. Vi ricordo come sempre lasciate tanti like commentozi e ci becchiamo alle 17 con un nuovo video. Ciao ciao ragazzi! Ciao ciao!